Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Splendida notizia in casa Rossi, è nata Angelina Luce. Valentino Rossi, il fuoriclasse delle due ruote e nove volte campione del mondo, è diventato zio. Il 45enne di Urbino ha condiviso la gioia della famiglia dopo la nascita della figlia di suo fratello Luca Marini, pilota Honda, e della moglie Marta Vincenzi. La piccola è venuta al mondo sabato 12 ottobre, e la coppia ha annunciato la lieta notizia sui social con una dolcissima dedica, senza fiato, sei perfetta amore, così grande che non potevamo mai immaginare di provare. Luca Marini ha avuto la fortuna di poter vivere questo momento magico durante un weekend senza gare di MotoGP, godendosi ogni attimo della nuova avventura da papà. Anche Valentino Rossi ha espresso la sua gioia, pubblicando una storia sui social per dare il benvenuto alla nipotina Angelina Luce, mostrando tutto l'entusiasmo per l'arrivo della nuova arrivata in famiglia. Tutti noi facciamo gli auguri, e ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore